Ok ragazzi, parliamoci chiaro, ormai praticamente tutti gli iscritti a Facebook tra i propri amici hanno un sacco di persone, ben più probabilmente di quelle che si conoscono in realtà. Molte infatti sono le persone che ci aggiungono o che aggiungiamo su Facebook, che però in effetti nella vita reale non conosciamo. E se gli sviluppatori di Facebook hanno impostato la piattaforma in modo tale da dare molta rilevanza quando due persone stringono amicizia, in realtà la cosa opposta, cioè quando una persona cancella un'altra dalle proprie amicizie di Facebook, in realtà non viene visualizzato assolutamente nulla, anche se in effetti sono tantissimi gli utenti che vorrebbero avere delle notifiche quando qualcuno li elimina dai propri amici. Ebbene ragazzi, non tutto è perduto, oggi vi farò vedere proprio questo, come scoprire chi vi ha eliminato dalle amicizie di Facebook. Lo faremo utilizzando un'applicazione che in effetti non è nuovissima, ma che negli ultimi tempi non ha funzionato a dovere, ma a quanto pare gli sviluppatori dell'app hanno sistemato le cose e adesso ha iniziato a funzionare veramente come dovrebbe. L'applicazione è gratuita, funziona per iOS, funziona per Android ed è disponibile addirittura un plugin per Chrome, il browser di Google. In questo video però vi farò vedere come funziona e vi anticipo che è veramente molto semplice utilizzando un iPhone. Benvenuti! Nello specifico l'applicazione che andremo ad utilizzare si chiama Who Deleted Me on Facebook e come potete vedere è disponibile gratuitamente nell'App Store, così come nel Play Store di Google. Una volta installata e avviata l'applicazione per la prima volta, l'unica cosa che dovrà fare l'utente è garantire l'accesso al proprio profilo di Facebook e avere un po' di pazienza, perché l'applicazione non dovrà fare altro che eseguire un'analisi di tutte le amicizie attive nel profilo al momento dell'avvio dell'applicazione, una procedura che può durare tempo, soprattutto quando gli amici sono tanti. Una volta effettuata la prima analisi, l'applicazione si ricorderà a tutti gli amici e effettuando un secondo scan, magari dopo qualche ora o dopo qualche giorno, l'applicazione non farà altro che eseguire un controllo incrociato grazie al quale si potrà vedere chi vi ha eliminato dai contatti di Facebook. Con questa applicazione non solo è possibile vedere chi vi ha eliminato, ma è possibile vedere una serie di informazioni molto interessanti, come per esempio i profili che non sono più attivi, che erano tra i vostri amici di Facebook, ed è possibile addirittura attivare la scauzione in background, scauzione in background che nel caso in cui un amico dovesse eliminarvi da Facebook, vi invierebbe automaticamente una notifica del fattaccio. Bene ragazzi, questo è tutto, questa è Who Deleted Me, un'applicazione semplicissima da utilizzare, che nel caso in cui vogliate sapere chi vi elimina da Facebook, vi potrebbe essere di molto aiuto. Io sono Dario Caliendo e vi mando un abbraccio. Grazie a tutti.